Mio Dio, è pieno di scarafaggi ovunque. Sì, beh, ecco io non mi avvicino. Mi sa che dobbiamo, però. Ah, ok. Gli scarafaggi mi fanno più schifo del fantasma. Proviamo ad avvicinarsi, a premere X, fare qualcosa, non funziona nulla. Buio pesto. E schizzano via con la luce. Disgustoso. Va bene, comunque direi che noi dobbiamo proseguire, penso. Non c'è nient'altro da fare, mi sembra. Eh sì, ok. Aspetta, zoomiamo magari dentro. Non c'è nulla, andiamo via. E passiamo al livello successivo. Sono sempre le 11.59. Porta del bagno si è magicamente aperta. Noi andiamo dentro e troviamo la grande assente finora. la chiave, la chiave, la caratteristica principale di salimenti, la torcia. Quindi, la accendiamo in mezzo allo schifo. Vedete che è un bagno disgustoso. Che schifo. Non ce la posso fare. Vabbè. Quindi, diamo un'occhiata allo schifo. Sono coraggiosi, comunque, questi scarafaggi. E vediamo che... Nel lavandino... Sì, è una cosa orribile. Ci sentono dei passi fuori. Oh! Ma qualcuno sta cercando di aprire la porta. Medica, aiuto.